Bentornati sul video della CSE, oggi video speciale perché vi parliamo di quella volta che siamo andati in Sicilia, più precisamente il 22 e il 23, a Gela per la decima edizione della festa della protezione civile. Un mesetto prima infatti ci ha chiamato la Procivis di Gela, che ragazzi tutti giovanissimi, mi raccomando seguiteli su Instagram, ci ha chiamati perché? Perché voleva rifare uno dei nostri spettacoli, dei nostri flash mob che facciamo nelle piazze, nelle spiagge. Appunto mettere tutti i cuori per terra e con la musica far ballare e imparare insieme il massaggio cardiaco e il primo soccorso. Devo dire che la cosa è piaciuta talmente tanto che nello stesso giorno addirittura ne abbiamo fatti quattro, abbiamo fatto il nostro record di flash mob in una sola giornata, quattro flash mob nella piazza e nella chiesa dove c'era stata la premiazione e la conferenza, insomma, della protezione civile. Proprio ieri un ragazzo, un volontario della protezione civile di Gela, che siamo rimasti in contatto, mi ha comunicato che stanno facendo, stanno rifacendo i nostri flash mob in tutti i comuni vicini, cioè le altre protezioni civile si sono messe, insomma, di buon impegno e stanno rifacendo l'evento che abbiamo fatto in piazza. Questo non può che rendersi orgogliosi, veramente, anzi ci fa molto piacere di aver, insomma, trasmesso questa iniziativa e questa buona educazione, perché fare un'educazione così, divertendosi, fare imparare veramente dai più piccoli il massaggio cardiaco è veramente una bellissima esperienza che vi consiglio di fare a tutti quanti, se ci volete ripregare, se volete venire con noi, invitarci, noi comunque, come sempre, ripetiamo che andiamo gratuitamente a tutte le piazze dove ci invitano a fare questo spettacolino, questo flash mob, perché veramente imparare divertendosi penso sia la cosa migliore che ci sia. Da punto di vista dell'insegnamento e proponiamo sempre, sia le associazioni, sia la protezione civile, di farlo, soprattutto quando sono le feste, per imparare e diffondere la cultura del primo soccorso a più persone possibili. Come sentite dal dio da letto, non sono di queste parti, ma la seconda volta che vengo e sono sempre più contento, qui trovo sempre il sole, sempre il sole. E questo mi ispira veramente tanta voglia di voler continuare ad andare in giro per l'Italia a fare questa bella cosa che è dimostrare quanto è semplice salvare la vita. Bene, perché tutti quanti possiamo, ma soprattutto tutti quanti dobbiamo. Mi giro e vedo una persona a fianco a me che sta a terra. Qual è la prima cosa che faccio? Chiamo? Aiuto! Ebbè, quello là continuiamo a farlo, eh? Quindi aiuto, aiuto, guarda che c'è stata una persona a terra qua. Qualcuno faccia qualcosa, perché state lì a guardare? Ma intanto faccio qualcosa io, mi avvicino e mi metto in ginocchio vicino a lui e provo a verificare se reagisce alla mia chiamata. Risponde? Reagisce? Niente? Tra poco per quella persona non ci sarà più niente da fare, ma no, aspetta! Ci state voi là davanti. Abbassiamoci con l'orecchio e controlliamo se respira. Adesso silenzio tutta la piazza, silenzio! Oh, io non ho sentito niente, vuoi? Ma quindi non respira? Oh, mamma mia, se non respira qua è ancora più grave! Eh, ma il 118 io già l'ho chiamato! Eh, starà per arrivare, ma quando arriva? Che posso fare? Mettiamo le mani al centro del torace, la mano più forte, chi è destro la destra, chi è sinistro la sinistra, l'altra sopra, l'altra sopra e iniziamo il massaggio cardiaco. Occhiamo tutti insieme! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, siete! Lo portiamo aiutare, 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 a questo gli dobbiamo salvare la vita, con il PLS di Alcanzia. Dai, dai, guardatevi! Questa è la vita, questo è il senso della vita! Il primo di voi deve dire al signore che è vicino che vuole mettere le mani, eh? Dobbiamo imparare! Ingrociamo le mani, mettiamo le mani sul cuore. Setti, 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 e setti, su, per terra! perché la vita è sotto le nostre mani e non la lasciamo andare via, bravi! Applauso, non ve l'andate! Applauso, non ve l'andate! Tutti i potenziali sono correttoni! Grazie ancora! Grande successo per la festa della protezione civile è giunto ormai al suo decimo appuntamento. La due giorni del 22 e del 23 settembre è stata ricca di appuntamenti che hanno visto il coinvolgimento di tutto il volontariato gelese insieme alle organizzazioni provenienti da numerosi paesi dell'isola. Un momento particolare è stato il flash mob ideato da Cristian Manzi, l'infermiere protagonista, Tusi che Vales, che ha saputo coinvolgere sia grandi che piccoli in una piazza colma di spettatori. L'educazione, la formazione, l'informazione, l'insegnamento non ha confine. Oggi, come tante altre volte in altre piazze d'Italia, ho sperimentato la formazione utilizzando un'arte, che è la musica, il ballo, il divertimento e come sempre anche qui a Gela ha un grande successo. La gente si è sentita stimolata, motivata ad apprendere queste nobili tecniche per salvare la vita umana. Nel pomeriggio la conferenza regionale dal titolo la protezione civile, ieri, oggi e domani, con la partecipazione di diversi relatori. Al termine, la Santa Messa celebrata dal Vicario Generale Don Antonio Rivoli, alla presenza della reliquia di San Pio da Pietrelcina, vegliata dai volontari della misericordia. Poi, la processione e la benedizione in piazza Padre Pio di tutti gli automezzi e dei volontari, al suono delle sirene e dei tanti mezzi di soccorso. Abbiamo passato veramente due giorni spettacolari a Gela. I ragazzi ci sono venuti a prendere in aeroporto, ci hanno accolto come se ci conoscessero da sempre. Ci hanno ospitato da loro, abbiamo mangiato sempre insieme, ci siamo confrontati, ci hanno trasmesso la loro voglia di fare attività di volontariato e di protezione civile. Si vede che era proprio un gruppo unito. Abbiamo conosciuto Luca, che abbiamo fatto una piccola intervista, dopo vediamo, insieme ai ragazzi, che ci ha spiegato come ha creato questa associazione. Ha creato un punto, questo è fondamentale, un punto di riferimento per tutti i giovani della città che se vogliono fare qualcosa possono trovare le porte aperte sempre alla protezione civile di Gela. Infatti dentro la struttura non ci sono soltanto attività di protezione civile, ma c'è comunque svago, c'è una palestra aperta e gratuita e molte altre attività che fanno anche durante tutto l'anno. E che dire, è veramente, veramente una famiglia. L'abbiamo trovata come la CSE che prima di essere volontari, prima di essere operatori della protezione civile, come noi siamo istruttori, eccetera, è una famiglia. La comunità di Gela, posso dire veramente che è una famiglia e questa cosa mi ha colpito, anzi ci ha colpito veramente nel profondo. E vi lasciamo questa intervista che abbiamo fatto a Luca e l'abbiamo fatto anche ai ragazzi della protezione civile che hanno qualche consiglio per voi. Dimmi il nome e cosa fai dentro l'associazione. Massimo Curato, lavorantario da una vita è istruttore. Allora io sono Federica Gravagna e dentro l'associazione sono segretaria. Mi chiamo Giuseppe e sono della protezione civile e sono fiero di indossere questa uniforme. Allora ciao a tutti, io sono Francesco Monachella e mi occupo di organizzare e coordinare assieme al Presidente e al Vicepresidente tutti gli eventi che organizza la Procivis, che siano feste, che siano corsi, che siano qualsiasi tipo di impegno. Ciao, sono Angelo e io sono il Vicepresidente della struttura e mi occupo prevalentemente dell'organizzazione, della gestione di tutti gli eventi e delle manifestazioni che creiamo molto spesso qui in struttura. Sono Angela Stimolo, frequento la protezione civile da un anno. Mi chiamo Giuliana, sono un volontario. Mi chiamo Giuseppe Martinez, oltre a partecipare ai corsi e ai servizi mi occupo della web tv. D'angeli e nomi. Dentro l'associazione, oltre a fare i corsi formativi, è qualcosa di veramente meraviglioso perché oltre ad aiutare anche te stessa a conoscere nuove cose, aiuti anche le altre persone. Cos'è per te l'associazione protezione civile di Giara? Allora sicuramente è un posto dove stare tutti insieme, magari quando c'è una festa o un servizio, però serve anche a unirci per fare del bene, magari ricevendo anche solo un grazie che è molto gratificante. Cos'è per me? È un dare, è un continuo dare. Allora per me la protezione civile vuol dire mettersi nel mondo del volontariato, dedicare del tempo libero a chi veramente ne ha di bisogno. Per me fare il volontario alla protezione civile di Giara, per me equivale a vivere. A vivere bene, a vivere nel sociale e a poter fare qualcosa di utile per tutti, per chi ha bisogno e per chi è stato meno fortunato di noi. Iscriversi è importante perché è importante imparare queste manovre di primo soccorso, perché nella vita non si sa mai cosa può succedere. Già dal primo momento che sono entrata qua dentro mi sono sentita subito a casa e per me già qui è come una seconda casa e siamo già una famiglia. La protezione civile ti forma e ti informa un po' su tutto. Però dico, se volete cominciare a fare qualcosa di veramente utile e importante nella vostra vita, iniziate da fare bene agli altri, iniziate a fare volontariato, iniziate a credere voi stessi in qualcosa e successivamente fatevi promotori di quello a cui credete. Quindi venite alla Procivis di Gela per questo motivo. Siamo qui con Luca Cattuti dell'Associazione Protezione Civile di Gela e ti volevo chiedere principalmente come ti è venuta l'idea di aprire questa associazione e insomma come è nata, qual è stato il tuo pensiero fin dall'inizio? Il fatto di aprire la pubblica assistenza Procivis è nato quasi per scherzo, perché pensavamo che nel territorio di Gela qualcosa di particolare che si potesse mettere a disposizione della cittadinanza non c'era. E quindi nel 6 dicembre del 2002 abbiamo pensato di creare qualcosa di nostro, di qualcosa di cittadino, partendo dalla formazione, partendo dai servizi di protezione civile che si facevano. Poi pian piano abbiamo iniziato con l'acquisto di qualche mezzo, fino a quando la prima ambulanza è grazie al Comune di Gela che ci dona l'ambulanza e così via abbiamo iniziato questo piccolo percorso sanitario che oggi sinceramente possiamo dire da un piccolo percorso sanitario sono 15 anni di storia, 15 anni di cittadinanza attiva, 15 anni di volontariato vero, sono numerosissimi i ragazzi, oggi la nostra struttura considera che accoglie tanti giovani anche dal punto di vista dell'alternanza scuola-lavoro, quindi in questi ultimi due anni abbiamo avuto circa 800 ragazzi all'interno della nostra struttura che sono divisi quasi in un istituto scolastico. Noi in questi due giorni abbiamo parlato con quasi tutti i ragazzi della protezione civile e oltre che ne parlano tutti benissimo, nessuno ha niente da criticare, niente da aggiungere, ci ha colpito anche il numero grandissimo di giovani che sono inseriti nell'associazione, come fate a coinvolgerli? Come avete fatto in questo territorio particolare? Ma guarda, ti sembrava stupido, noi abbiamo tra virgolette e dico lo spirito interno è quello proprio di incontrare i giovani e andare direttamente all'interno delle scuole, di andare anche, di pubblicizzare molto gli eventi attraverso i massimidi locali, guarda quando si parla di Procivis per chi non ci conosce come struttura pensava che è una semplice associazione, la classica associazione, non si fa nulla, magari ci fa tanto per passare tempo, questo quadro posso dire che non è così, qua dentro giornalmente i ragazzi sono tutti impegnati, c'è chi è impegnato all'interno di una clinica dove all'interno della clinica i ragazzi si occupano del trasporto del sangue, i ragazzi si occupano del trasporto degli ammalati, i ragazzi si occupano dell'accoglienza, quindi ognuno nel proprio settore, quando i ragazzi arrivano alla nostra struttura lo dico sempre, è facile entrare ma è difficile uscire, perché si instaura un rapporto di clima familiare, un rapporto di amicizia fraterna, amicizia tranquilla e serena, diventa fondamentale se tu vuoi portare avanti un gruppo. Non ti nascondo che anche la presenza di quest'anno di Cristian Manzi all'interno della pubblica assistenza Procivis e per la festa che io ringrazio, è fondamentale perché di solito noi alterniamo i nostri corsi di formazione mettendo sia la parte teorica anche la parte pratica, quindi la parte musicale, fare vedere qualcosa di concreto e cercare di suscitare curiosità nei ragazzi che vengono all'interno di questa struttura diventa importante e ti posso dire che è vero, tanti sono, tanti sono colori quali magari la prima volta ci vado per la seconda volta, poi ci vado per la terza e poi te li ritrovi qua davanti a farti l'iscrizione tranquillamente, tutto quello che noi qua dentro facciamo si condivide e questo diventa importante. Salute ragazzi e provo a convincerti a iscriversi alla situazione di protezione civile. Sicuramente un saluto va a tutti, giovani e meno giovani, iscriversi alla protezione civile o meglio iscriversi a una pubblica assistenza come quella della Procivis è qualcosa di bello, qualcosa di bello perché bisogna scoprirla prima e quindi vivere all'interno, perché all'interno della nostra struttura non sono i locali perché i locali danno sicuramente un'accoglienza, un dono maggiore, non è la palestra che parecchi vengono per magari affollare la nostra palestra perché i giovani vengono giornalmente a fare questo, ma è sicuramente lo spirito che si vive all'interno di una struttura che è fondamentale, quindi la cosa che dico a tutti è quello di avvicinarsi di una pubblica assistenza, se poi Procivis a noi fa sicuramente molto piacere. Ciao caro, venite alla Procivis che c'è Luca Cattuti, ciao! Ciao! Mario un attimo, lo devo dire a parole mie! A parole tua! Mario! Vai tranquillo, dai quando ci sei ti faccio la seconda domanda! Ma è ormai! Ma fermala! Ma perché non lo fai giù prima! Falla tu! Sicuramente delle nuove leve farebbero comodo! Ah non sta a parlare della campagna commozionale dell'esercito! Sì, lo deve dire! Fa! 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 Va bene! Vorrei dire tante cose! Tranquilla! Maria ma spero che le tagli tutte! Sì, va bene! Un'altra domanda! Grazie!